È giusto dire la verità, è inevitabile avere paura. Capisco perfettamente che sia giusto rispettare le norme, ma allora esse siano oggettive. Non c'è solo il coronavirus, che non è l'unica fonte di morte, anzi è l'ultima fonte. Molto più grave è il cancro. Ci sono 80.000 persone che muoiono di cancro ai polmoni in terapia intensiva, quindi occupando quelle stanze di cui si parla in questi giorni, per il fumo. E allora come fare un decreto in cui sono aperte le tabaccherie e consentito che una persona vada a prendere ciò che lo porta a morire? Se stiamo combattendo contro una malattia grave, contro un virus che porta alla terapia intensiva, dobbiamo combattere anche le altre malattie che possono portare a quelle condizioni. E allora stupisce che chi chiede di rispettare le regole dica che è giusto che siano aperte le tabaccherie. Gerolamo Lacquaniti si è dichiarato fumatore, ha quindi ritenuto che fosse assolutamente legittimo, in ossequio al decreto del governo, che le tabaccherie siano aperte. No, perché esse contribuiscono, vendendo il fumo, a una malattia più grave del coronavirus che è il cancro ai polmoni, da cui la polmonite con cui muoiono gli ammalati di cancro. E allora non è che dobbiamo vivere in un unico incubo e non proteggerci da altri rischi. E così è importante che sappiate che questo allarme sociale che ci ha portato a vivere in queste condizioni sembra attribuire la causa di morte a una sola fonte. Vergogna dell'informazione. Sul televideo della RAI, abbiamo letto in queste ore, nelle ultime 24 ore ci sono stati 250 decessi con coronavirus e non per coronavirus. Quindi qualcuno che è stato colpito anche da coronavirus, magari aveva già il cancro ai polmoni, è morto in quella condizione in cui tutto si riferisce all'unica fonte che oggi si terrorizza. Ma non è morto di coronavirus, no. Dovete saperlo, è giusto che io vi rassicuri sul fatto che questo incubo confonde alla fine anche i numeri. Perché le vittime, 250 persone, erano affette da altre patologie e molte di loro da cancro ai polmoni per il fumo, che è consentito, che è incitato dalle tabaccherie aperte. Quindi nella giornata di ieri, zero morti per coronavirus. Pare che dall'inizio i morti non per complicazioni regresse, ma assolutamente per il virus, erano solo due. Quindi stiamo parlando allora di qualcosa che noi vogliamo assolutamente riferire una sola fonte, creando un incubo che è quello per cui non possiamo guardarci e parlarci. Complimenti per essere l'unica voce sensata, così uno mi scrive, e per fortuna così alta fuori dal coro. Le chiese, i tabaccai, il trentino. Ho appena firmato la petizione e quindi di 250 decessi dichiarati, solo due sono per coronavirus. E gli altri 248 siamo andati a vedere perché sono morti? Li abbiamo pianti per una ragione di malattia che probabilmente si poteva impedire o prevenire tenendo chiuso le tabaccherie, proibendo il fumo? Ecco, ancora mi pare che sia sufficiente per dire che è giusto difendersi, ma non si può vivere pensando che l'unica ragione di morte è il coronavirus. I numeri che vi danno sono numeri che parlano di morti per altre ragioni a cui si aggiunge il coronavirus. Quindi non per il coronavirus, ma con il coronavirus. Mi pare giusto ribadirlo.